ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale ragazzi oggi ho shoppato ben 50 gemme off camera perché stavo a 1600 monete 50 gemme e 400 monete è tantissimo però l'ho fatto solo per shoppare maga della difesa bibi c'ha lo scudo che è fortissimo questa abilità la volevo da un sacco di tempo è la prima abilità stellare che shoppo quindi andiamo 3 2 1 marorega che bella allora eccolo qua ce l'ho sdroppata perfettamente quindi questa volta non andiamo a giocare in partita vera ma andiamo in amichevole a a a a a a no dai bro ancora così riguarda è finito Dai! Ok, primo e pareggio Ah, regà, che ansia No, questa ult ci fa male GG Buono così Dai, regà Dai! Sì! Gol! 651, perfetto, regà Così abbiamo pure provato la star power Bellissima, regà, una bestia 3 monete e 6 gemme Madò Tralasciando questo, mancano Vediamo se si vede qua, mancano 4 giorni a fine stagione Allora, ho sdroppato tutti Mi sono fatto... Dai, sì, tutti Quasi nessuno Il primo ce l'ho al 23 Me l'ho lasciato al 22 Bull l'ho lasciato al 21 Spike e Frank sdroppati Shelly sdroppata Jesse sdroppata Rosa sdroppata Piper da 7,50 A 5,50 La lascio al 21 Tanto non mi va più di giocarci con Piper Pam non l'ho sdroppata Leon non l'ho droppata di tantissimo Lasciamo perdere Anche Corvo E il resto l'ho fatto Ma tanto ora di fine stagione Non mi frega quasi niente Perché ho ricevuto ben 2500 punti stellai Da sete di potere Il record ho fatto Di qua Ho fatto 955 punti in sete di potere Niente ragazzi Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao